Thomas Jaske, un nuovo volto di Power Volley Milano per la stagione 2021-2022. Dopo l'esperienza di Verona continua il tuo percorso in Italia, allora subito cosa provi, quali sono le tue emozioni di questa nuova avventura che inizierà a ottobre? Sì, quando io stavo parlando con il mio procuratore, io dicevo a lui che io volevo rimanere qua e se potevo scegliere andrò a Milano, però dovevo aspettare perché la vostra squadra dovevete decidere cosa fare, così, così, e quindi io stavo aspettando, stavo aspettando e alla fine e quando è arrivata l'offerta io ero contentissimo e anche adesso sono contentissimo di giocare lì per tante ragioni. Milano come una città per un americano mi sa che in palovolo sarà una delle migliori del mondo e anche voi avete una squadra forte, eravate vicino l'anno scorso e quindi io voglio aiutarvi e sì, non posso aspettare di essere lì. Sei un giocatore che in questi due anni forse non è riuscito a far vedere in questi anni totalmente il suo valore perché purtroppo hai avuto una serie anche di infortuni. Allora raccontaci che tipo di giocatore sei, che cosa si devono aspettare i tifosi di Milano? Sì, io quando penso di come voglio giocare, voglio essere sempre così, non voglio essere un giorno male, un giorno in forma, voglio che tutte le mie compagnie di squadra sanno chi arriva ogni giorno, capisci che io voglio essere lì ogni giorno per la mia squadra, per la mia città, per tutti e vogliono che loro sanno cosa faccio io ogni giorno, non deve pensare, oh, chi arriva oggi in posto 4? E sì, è così, voglio fare tutti bene, voglio ricevere bene, attaccare bene, fare la difesa, battuta, voglio fare tutto bene. Sì, è così e mi sa che sulla vostra squadra voi avete tanti giocatori così, alto livello in ogni parte del gioco. A proposito di giocatori della squadra del prossimo anno, qualcuno lo hai già incontrato in questi giorni, tu che sei impegnato a Rimini nella bolla, in WNL, giocherai probabilmente contro quelli che sono i tuoi compagni di squadra del prossimo anno, quindi insomma ti chiedo qualche impressione su quelli che sono lì, Patrice, Cicagua, Cineniese. Sì, io parlavo con Cineniese due giorni fa per la prima volta, sì, non ho conosciuto lui e anche Patrice, solo quando siamo a pranzo diciamo ciao, ciao, come stai, tutto sta andando bene, sì, sì, però è un po' strano perché stiamo giocando contro loro e dopo dobbiamo cenare insieme, quindi sì, è un po' strano qua, però tutti sembrano come amici, però adesso siamo con la nostra squadra nazionale, quindi è un po' diverso. Adesso avversari, domani compagni di squadra, c'è un tatuaggio sul tuo braccio molto bello che sono i cinque cerchi delle Olimpiadi, ci sarà questo appuntamento, è per te una grande opportunità che poi ti può permettere di arrivare al top della forma qui a Milano, insomma come vivi questa esperienza? Sì, quando io sono andato a Rio cinque anni fa, sai che noi lavoriamo ogni giorno per quell'opportunità e mi sa che ricordi la partita semifinale, però sì, adesso la nostra squadra, la nostra squadra, stiamo decedendo chi va all'impiede e chi non va e quindi questo periodo è un po' difficile per tutti gli giocatori e non solo la nostra squadra, ma tutte le squadre e quindi sì, ho questo tatuaggio, però io voglio andare un'altra volta e quindi io sto lavorando ogni giorno per andare. Vediamo. Thomas, l'ultima domanda, è tornato in Italia un tuo compagno di squadra di nazionale che è Anderson, giocherà con Perugia, il che vuol dire che il campionato italiano è ricco di talenti, è ricco di grandi giocatori, sarà un campionato molto difficile, che cosa ti aspetti dalla prossima stagione, da questa superlega così competitiva e così di alto livello. Sì, tutti sanno che è il migliore campionato del mondo, puoi vedere ogni squadra quest'anno, Modena hanno cambiato tutto, l'Ube sono sempre forte, Perugia hanno speso abbastanza soldi e hanno una squadra fortissima e Trento sempre sono di alto livello e mi sa che l'anno prossimo, l'anno scorso, quasi o non quasi, ogni partita era difficile, non potevi arrivare e vincere, devi fare il tuo lavoro, non era niente gratis, capisci che sarà più difficile l'anno prossimo, quindi sappiamo che è il migliore campionato del mondo. L'ultima veramente, il prossimo anno probabilmente si giocherà, speriamo, con i tifosi, che cosa ti senti di dire ai tifosi di Milano che potranno arrivare all'Allianz Cloud? Ti aspettiamo, sono contentissimo di giocare con tifosi, ti aspettiamo.